Perché i bambini contraggono il virus molto meno degli anziani? La scienza sembra si stia concentrando su un fattore, ossia cosa? La presenza di silicio all'interno del corpo di un bambino. Infatti, il feto e tutto quello che ruota intorno al bambino ha un'altissima concentrazione di silicio, tant'è che noi sappiamo che il silicio è una sostanza in qualche modo da protezione all'essere umano. Sappiamo benissimo che, dando molta elasticità al sistema osseo, i bambini ad esempio sono molto meno soggetti alle fratture, non solo. Il silicio è un elemento naturale che cattura luce e le emana attraverso il nostro corpo a tutto il nostro sistema nervoso. Quindi cosa sto a indicare? Che un corpo c'erese venuto in soccorso a noi in questo momento per sconfiggere un male terrestre. E questo è il valore della maternità, di questo amore materno per la vita che dà la... BAMBINI!